Palestra e centri fitness potrebbero riaprire il prossimo 25 maggio. La proposta è stata annunciata dal ministro dello sport Vincenzo Spadafora nell'informativa a Senato sulla fase 2 dell'emergenza coronavirus. L'idea è di far ripartire anche tutte le strutture che si occupano di fitness, pur tutelando la salute di lavoratori e clienti. La ripartenza dei centri sportivi avverrà secondo le linee guida, previa approvazione del comitato tecnico scientifico. Le parole di Spadafora sono state molto chiare. Tutti devono avere un protocollo adattabile a diverse situazioni. Sarà poi responsabilità loro garantire la sicurezza dei clienti e questo invoglierà le persone ad andare e superare la paura. Abbiamo già inviato le linee guida al comitato e se avremo risposte positive le strutture potranno riaprire anche prima. Ovviamente dovranno essere rispettate le regole di distanziamento sociale e gli ambienti dovranno essere sanificati in modo adeguato e continuo, visto il tipo di attività che si svolgerà all'interno delle strutture. Ogni cliente dopo l'uso dovrà sanificare gli attrezzi. Saranno chiuse le aree comuni come spogliatoi e docce. Inoltre ogni cliente dovrà essere munito di busse sigillate che dovranno contenere rifiuti potenzialmente infetti. Nelle palestre più piccole si dovrà entrare su appuntamento, mentre per le più grandi sarà previsto un ingresso scaglionato. Si potrà inoltre essere eseguiti soltanto a distanza di due metri dall'istruttore, che indosserà guanti monouso e mascherina. Ogni cliente dovrà lavarsi più volte le mani e igienizzarle con i dispensare che saranno messi a disposizione delle strutture. Inoltre potrebbe esserci l'obbligo anche di bere da bicchieri o borracce monouso.